Tempo! La deve in angolo! Sbucato dal nulla Lorenzo Moeretti sul secondo palo col sinistro al volo aveva trovato la porta ha trovato però Paolo Ginestra, attentissimo! Altra chance con Marcucci, nuovamente sul secondo palo, nuovamente da Vano! E c'è il vantaggio di Michele Mano che fa 10 in campionato e porta avanti la Pistoiese Trascinatore! C'è andato vicino Lorenzo Moeretti in precedenza, c'è riuscito a concretizzare Michele Mano il gigante di Roma trova il decimo gol in campionato, forse il più importante in questo scontro diretto per la salvezza della Pistoiese che ha bisogno dei tre punti assolutamente per accorciare le distanze una salvezza diretta che sembra sempre più difficile iniziando bene però con questa rincuola